Fabio Massimo Castaldo, ero parlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Cominciò da lei Castaldo. Rapidamente molte cose. Oggi però aggiungiamo anche questa notizia molto mediatizzata a quest'ora del giorno. La lettera del sindaco Raggi, sindaco di Roma, al prefetto. Limitare l'arrivo dei migranti della capitale considerato il continuo flusso di cittadini stranieri. E c'è anche un intervento sul blog di Grillo sui Rom. Questo è ciò che accade in Italia. Invece qui noi abbiamo chiamato la nostra puntata di oggi il tempo dell'Infr-Azione perché questa è un'azione importante, seria dell'Unione Europea. Era anche ora perché purtroppo c'è da dire che con gli stessi paesi che invocano la solidarietà nei confronti della Russia e che quindi chiedono agli altri paesi di appoggiare le sanzioni nei confronti di Mosca che sono costate all'Italia, lo ricordo, oltre 4 miliardi di export sono quelli che invece si amano fuori quando è il momento di condividere un problema come quello migratorio che di certo non ha come unica causa, unica fonte solamente l'Italia e la Grecia che anzi qualcuno vorrebbe in qualche modo trasformare nei campi rifugiati d'Europa. Questo è assolutamente ingiusto. Bene che la Commissione finalmente abbia agito cominciando questa procedura di infrazione e poi ricordiamo che sono paesi che anche hanno ampiamente beneficiato di fondi strutturali per la propria crescita in questi anni. Chiudo con una battuta importante sul tema di Roma. Finalmente l'attuale governo della Cile della Capitale, cioè il governo del Movimento 5 Stelle supera il modello dei campi che abbiamo visto, dei campi nomidi di questi anni, il modello di buzzi e della speculazione selvaggia sull'immigrazione. Ricordiamo tutte quelle intercettazioni e invece grazie anche ai fondi europei 3.8 milioni si va verso un modello di accoglienza diffusa che elimini queste sacche di criminalità e povertà all'interno della nostra città. Pesso che ovviamente io faccio sempre il tifo per il mio paese quindi sono ben contento che il Fondo Monetario Internazionale ci dia qualche spiraglio però la luce in fondo al tunnel l'abbiamo sentita annunciata più di tante volte. In realtà i veri grandi problemi strutturali del nostro paese, i veri grandi nodi restano a tutt'oggi irrisolti. Se andiamo a leggere bene i dati dell'Istat vediamo che anche nei mesi passati faccio riferimento a marzo, aprile, a maggio, viene sottolineato che sì magari calano i disoccupati ma aumentano gli inoccupati e gli inattivi, famosi NIT cioè coloro che ormai hanno persino rinunciato alla ricerca di un'occupazione. E se purtroppo lo sottolineava anche un articolo dell'Huffington Post di fine aprile in modo molto chiaro, ahimè, purtroppo. E dall'altro lato abbiamo delle vere punte in diverse sacche del nostro paese in cui la disoccupazione giovanile ancora raggiunge punte del 60 e oltre per cento quindi vuol dire che lo sviluppo non è uniforme e per quanto riguarda anche la fotografia generale del nostro paese continua costantemente la fuga anche di cervelli all'estero. Ogni anno noi perdiamo 180.000-200.000 persone che cercano altrove una loro collocazione o un loro percorso di vita. Io temo fortemente che finché noi resteremo ancorati a dei vincoli economici come quelli del fiscal compact, difficilmente potremo agganciare una crescita che sia veramente rispondente a quelle che sono le esigenze del paese. Siamo ancora, addirittura, ci ritroviamo qui con coraghi del Partito Democratico che chiedono di metterlo, inserirlo all'interno dei trattati che loro afforzerebbero ulteriormente e ricordiamolo, ci sono anche previsioni lì che chiedono il rientro di un ventesimo dell'eccesso del debito l'anno una cosa che ci strangolerebbe completamente in questo momento è arrivato invece forse il momento fondamentale di prendere le distanze e stracciarle e andare verso una politica espansiva che ne sia una di crescita che è l'unica che ci può dare quei posti di lavoro di cui siamo veramente assetati. Allora, ci torniamo. Solo con un flash rapidissimo che purtroppo non è la battaglia degli zero virgola che ci può salvare. Parliamo di tutt'altri importi quando si ottiene qualcosa comunque è un piccolo passo in avanti ma non risolve il problema strutturale davanti al quale ci troviamo che è ben più grande e non si risolve.